Buongiorno, sono Sandrone Dazzeri e vi vorrei raccontare i 5 titoli che per me sono imperdibili. Ovviamente non è nessuno di quelli che ho scritto o che ho pubblicato. Il primo titolo è White Jets di James and Roy. È un libro che fa parte della quadrilogia di Los Angeles, ambientato più o meno intorno agli anni 50, ed è la storia di un poliziotto corrotto innamorato della sorella. Detto così, sembra una cosa molto turba, ma in realtà è, oltre ad essere un grandissimo noir, è anche una grandissima storia d'amore, di sofferenza e di redenzione. Ed è penso uno dei gialli scritti meglio della storia della letteratura noir. Il secondo titolo, e rimaniamo sempre nel campo del noir, è Il grande sonno di Chandler, Raymond Chandler, ed è uno dei titoli fondatori di quello che si chiama il noir moderno, anche se è stato scritto parecchio tempo fa, subito dopo la guerra. Ed è il romanzo con cui si presenta un investigatore, diciamo, rimasto nella storia e nella memoria di tutti, che è Philip Marlow. Philip Marlow che deve indagare su una storia di ricatti e di omicidi intricatissima, e che comincia la sua narrazione raccontando del suo arrivo in questa sera dove vive questo colonnello che lo assumerà. Ed è anche questo molto romantico, come noir, ma soprattutto ha questo squisito gusto del giallo intricato, e poi alla fine tu dici, io non ho capito chi è l'assassino, però è stata una bella storia. Il terzo romanzo, sempre rimanendo nel genere, è il Ubik, Ubik di Philip Dick. Philip Dick è stato uno scrittore molto saccheggiato soprattutto al cinema, e oggi è considerato un autore di culto, ma fino a una ventina di anni fa era considerato uno scritto rucolo. In realtà Philip Dick ha scritto alcuni dei romanzi più visionari della storia e della narrativa. In Ubik si racconta la storia di un personaggio che scopre di essere morto e di non saperlo, perché vive una sorta di ibernazione dopo un incidente, e vive in un mondo dove accadono cose strane, e si rende conto che queste cose strane sono in realtà i messaggi che dal mondo dei vivi arrivano a lui nel mondo dei morti. Era molto complicato, ma è in realtà molto divertente da leggere, anche un po' angosciante. La cosa importante è che Dick riesce a farti capire che il mondo attorno a te non è come lo stai immaginando o pensi di vederlo, è qualcosa di molto differente e forse non riesce a capirlo. Il quarto romanzo è Mister Vertigo di Paul Oster, siamo usciti dal genere. Paul Oster è uno dei grandi narratori americani contemporanei, è un grandissimo scrittore, secondo me renderebbe interessante anche l'elenco del telefono. In questo caso è la storia di un bambino che riesce a camminare nell'aria. La cosa divertente è che da questa premessa fantastica ve le raccontiamo un pezzo della storia dell'American, perché questo bambino poi diventerà vecchio e smetterà di volare, ma farà tante altre cose. Ed è una storia struggente, come spesso le storie belle di Paul Oster sono, ma è anche una storia di una grandissima immaginazione e di grandissima capacità narrativa. Quinto romanzo imperdibile. Ne direi altri 20, ma sono arrivato al quinto e 5 dovevano essere, è Il fallo delle vanità di Tom Wolfe. Tom Wolfe è uno scrittore poco apprezzato in Italia, considerato un po' palloso, un po' strano, poi si veste sempre di bianco, eccetera, ma è stato capace di raccontare alcuni periodi della storia americana in un modo mirabile. Il fallo delle vanità racconta la caduta di un broker di Wall Street che per un incidente di cui sostanzialmente non è responsabile vede la sua vita finire a rotoli. Insieme con questo tante altre cose, ma è la descrizione di un mondo dell'alta borghesia americana, un mondo che poi ritornerà ribaltato di segno nell'altro grande romanzo di Tom Wolfe, che è un uomo vero.